Io faccio gli auguri a Renzi, io vivo in Italia, ho due figli, quindi spero che la vita migliori. Però a tanti proclami per il momento sta seguendo nulla con l'aggravante che ha ribadito 18 volte alla Merkel, a Parigi e a Londra, che lui non toccherà i vincoli europei, rispetterà i vincoli di deficit e l'euro non si discute. Quindi uno che dice che l'euro non si discute non ha capito niente.